La conversione d'uso dello split corredato di Tower Unit da Reformer a Cadillac avviene con una semplice manovra di posizionamento del MAD Converter. La barra appoggia piedi può essere utilmente sfruttata anche in configurazione Cadillac dello split. La regolazione delle molle sulla Tower Unit può essere effettuata con un semplice gesto. Anche la barra Tower può essere spostata con un unico movimento.